Salice modello Max, costo 95 euro, un casco unisex destinato alla competizione all'alto livello ma anche al freeride e allo snowboard, destinato alla pista ma anche al fuoripista, sciatori o snowboarder di medio livello o alto livello, la gamba è 2010-2011, le specifiche tecniche di questo modello testato, le misure variano dal 54 al 62 quindi XS fino a XL, la calotta esterna in ABS verniciato opaco con tecnologia soft touch, la struttura interna in EPS ad alta densità rivestita in tessuto analergico e antisudore, l'imbottitura anatomica, sotto gola e chiusura, chiusura rapida a scatto in acciaio, omologazioni CEEN 1077 GS TÜV, particolarità, è made in Italy, meccanismo di raffreddamento Fresh Air System, paraorecchi amovibile e lavabile, colore bianco e nero. Le nostre conclusioni, il casco Max si dimostra estremamente versatile, con calzata precisa e confortevole, molto leggera e avvolgente, presenta un ottimo isolamento termico senza penalizzare l'acustica. Di conseguenza i nostri consigli d'uso, date le caratteristiche, il modello si dimostra efficace per un'ampia gamma di utenti, dal medio livello fino all'alto livello alla competizione, bello, essenziale, efficace.